Bentornato nelle Marche, Presidente. Così si è rivolto oggi a Recanati, presso il Centro Nazionale di Studi Leopardiani, il Presidente Luca Ceriscioli, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che accompagnato dalla figlia Laura è stato accolto da una folla festante in occasione dell'inaugurazione del recupero dell'orto dell'ex convento di Santo Stefano Colle dell'Infinito, curato dal FAI in collaborazione con Comune, Mibac e contributi pubblici e privati. In quest'anno, in cui ricorre il Becentenario dalla stesura della Lirica, sono giunti a compimento i lavori di restauro dell'antico orto giardino in cui l'idillo è ambientato. Un progetto di valorizzazione culturale unico nel suo genere, la sfida più inconsueta e affascinante che il FAI abbia affrontato dalla sua nascita. Una giornata già di per sé straordinaria, un recupero di grande qualità, degli spazi dedicati all'opardi, l'orto, la struttura, eseguita dal FAI in collaborazione con la Regione, con tanti soggetti privati, un intervento di altissimo livello, illuminato dalla presenza del Presidente della Repubblica che non ha fatto mancare il suo sostegno, la sua vicinanza alla nostra Regione, a questa comunità in un momento così importante. L'ha affrontato la giornata come sempre con quella curiosità e quell'affetto che fanno rendere ogni momento quel Presidente della Repubblica sincero, una vicinanza alla nostra Regione che viene confermata ancora una volta e devo dire che anche la presenza del Ministro alla Cultura, Franceschini, che già tanto ha fatto nel mandato precedente a favore di questa comunità della nostra Regione, è stata anche l'occasione per ringraziarlo e per fargli in bocca al lupo per l'impegno che ha appena avviato. Una bellissima giornata per onorare un luogo che ci ricorda quanto l'Italia sia avanti nei principi di tutela e salvaguardia dei beni paesaggistici e culturali, ha ribadito il Ministro Franceschini. La mattinata si è conclusa con l'intervento fuori programma del Presidente Mattarella, che ha detto di non potersi esimere dal parlare, nonostante non fosse previsto un suo discorso ufficiale.